Realizzare la pace con l'ambiente Autoguarigione tantrica del corpo, della mente e dell'ambiente Attraverso i venti dei 5 elementi è il potere delle 5 grandi madri Che personificano le qualità degli elementi puri Possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause Essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause Essere inseparabili dall'estasi priva di dolore Dimorare nelle equanimità liberi dai pregiudizi, avidità e odio Possano tutti gli esseri guarire dalle malattie Possano purificare il corpo e la mente inquinati E godere di perfetta salute relativa e assoluta E rilassarsi in un ambiente interiore del Signore puro e sano Ora e sempre Possano tutti gli esseri avere la pace interiore E godere della pace nel mondo, ora e sempre Purificazione pacifica e purificazione irata dei 5 elementi Ostrompata di QTSS E'y aralambam, E'y aralambam, E'y aralambam, E'y aralambam, Tutti i fenomeni sono della natura dello spazio assoluto e delle energie di saggezza e compassione, yin e yang. Purificandoli il mio corpo e la mia mente diventano puri come un cristallo, concentro l'attenzione sul respiro e mi rilasso, visualizzo il mio corpo energetico sottile, il corpo aurico, chiaro e trasparente come un cristallo, nella mia mente, al mio cuore, c'è un immenso spazio interiore, più grande dell'universo intero. Mi immergo in questo spazio assoluto, il canale energetico sottile e trasparente che scorre dalla cima del mio capo al coccige, si espande fino a contenere l'intero universo e poi si riassorbe diventando piccolo come un atomo che racchiude l'infinito spazio interiore. Guru Yoga Pagno 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 Richiedo le benedizioni del Guru Buddha per guarire in profondità i cinque elementi interni ed esterni. Oma Guru Buddha Siti U 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 Eliminazione dei cinque difetti mentali principali dai cinque chakra. Elimino l'avarizia e l'orgoglio illimitati dal chakra segreto sotto forma di cavalli di colore giallo sporco. Elimino la paura e la gelosia illimitate dal chakra dell'ombelico sotto forma di garuda di colore verde sporco. Elimino l'ira e l'odio illimitati dal chakra del cuore sotto forma di serpenti naga di colore blu sporco. Elimino il desiderio e l'attaccamento illimitati dal chakra della gola sotto forma di gallina di colore rosso sporco. Elimino la chiusura mentale e l'ignoranza illimitate dal chakra del capo sotto forma di maiali di colore bianco sporco. Generazione dei cinque fiori di loto hai cinque chakra per curare il giardino interiore. Al mio chakra segreto sboccio un fiore di loto di colore giallo in cui dimora l'elemento terra. Al mio chakra dell'ombelico sboccio un fiore di loto di colore verde in cui dimora l'elemento vento. Al mio chakra del cuore sboccio un fiore di loto di colore bianco in cui dimora l'elemento acqua. Al mio chakra della gola sboccio un fiore di loto di colore rosso in cui dimora l'elemento fuoco. Al mio chakra del capo sboccio un fiore di loto di colore blu in cui dimora l'elemento spazio. Palli pema servo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al chakra dell'ombelico sorge nel fiore di loto di colore verde la sillaba seme yam. Al chakra segreto sorge nel fiore di loto giallo la sillaba seme lam. E ram, ram, yam, ram. Generazione dei mandala dei cinque elementi ai cinque chakra. Al chakra segreto la sillaba seme lam si trasforma nel mandala quadrato giallo dell'elemento terra marcato dalla lam. Al chakra dell'ombelico la sillaba seme yam si trasforma nel mandala semicircolare verde dell'elemento vento marcato dalla yam. Al chakra del cuore la sillaba seme bam si trasforma nel mandala circolare bianco dell'elemento acqua marcato dalla bam. Al chakra della gola la sillaba seme ram si trasforma nel mandala triangolare rosso dell'elemento fuoco marcato dalla ram. Al chakra del capo la sillaba seme he si trasforma nel mandala circolare blu dell'elemento spazio marcato dalla he. Al chakra del cuore la sillaba seme ram si trasforma nel mandala circolare dell'elemento acqua si trasforma nella grande madre fuoco. la madre acqua di colore bianco al chakra dell'ombelico il mandala semicircolare dell'elemento vento si trasforma nella grande madre vento di colore verde al chakra segreto il mandala quadrato dell'elemento terra si trasforma nella grande madre terra di colore giallo. Stadio di completamento purificazione combinata dell'ambiente interno ed esterno purificazione dell'elemento spazio. Lama, grande madre spazio, tu che tutto conosci, al chakra del capo, l'energia dell'elemento spazio vagera di colore blu della dachini pacifica. Penetra l'elemento spazio dell'ambiente interno ed esterno, il mondo e i suoi abitanti. Come risultato, l'elemento spazio interno ed esterno è guarito. Il buco dello zono si chiude, i problemi personali, sociali e politici come le guerre, le torture, la violazione dei diritti umani, la violenza, l'abuso di droghe e il terrorismo scompaiono. Le persone riprendono ad amare se stesse e gli altri, la loro famiglia, la società e il pianeta. L'elemento spazio, il chakra del capo, il cuore, l'intestino, il cervello, la pelle e il senso del tatto di tutti gli esseri viventi sono guariti. Aumenta la pazienza, l'intelligenza, la saggezza e la consapevolezza dell'interdipendenza ecologica. I problemi astrologici collegati a gemelli, cancro, mercurio, luna ed eclisse sono risolti. Sperimento la saggezza simile allo specchio e il potere di pacificazione. Ciò che sembra impossibile diventa possibile. Sorge il mandala dello spazio, Vajra. Prima luce. Risveglio il mandala circolare dell'elemento spazio di colore blu cielo al mio chakra del capo, rienergizzando il vento pervasivo. Seconda luce. Purifico il vento di natura spazio Con la concentrazione, il mantra e il mudra Esego una chirurgia psichica Estraendo l'inquinamento dell'elemento spazio a livello grossolano e sottile Dal mandala dello spazio del mio corpo aurico L'inquinamento passa attraverso i canali sottili e lascia il mio corpo Uscendo dalle dita delle mani e dissolvendosi in uno spazio assoluto Il mandala dello spazio è purificato, guarito e ricaricato d'energia E ritorna al suo brillante colore blu cielo Terza luce Stabilizzo la pura energia dell'elemento spazio e la integro nella vita quotidiana Visualizzo la grande madre spazio al chakra del capo Mentre ricevo l'iniziazione del nome del supremo guaritore Vairociana Una pioggia di saggezza di migliaia di grandi madri spazio Grandi e piccole sillabe E Mandala dello spazio Luci blu e nettari si assorbono nel chakra del capo L'ambiente interno ed esterno si trasforma nel mandala dello spazio Vajra L'ambiente interno ed esterno si trasforma nel virus L'ambiente interno ed esterno si trasforma nel virus Purificazione dell'elemento terra Lama, grande madre terra, tu che tutto conosci Al mio chakra segreto L'energia dell'elemento terra va agia di colore giallo, della dachini dell'incremento Penetra l'elemento terra dell'ambiente interno ed esterno, il mondo e i suoi abitanti Come risultato, l'elemento terra interno ed esterno è guarito I rifiuti tossici e radioattivi scompaiono I disturbi energetici causati agli scavi, dalle grandi costruzioni, dai test nucleari sono neutralizzati I terremoti e gli asteroidi pericolosi sono pacificati L'equilibrio acido e alcalino della terra è ripristinato E tutti gli esseri possono nuovamente nutrirsi di cibo puro L'elemento terra, il chakra segreto, la milza, lo stomaco, la carne, le ossa Gli occhi e il senso della vista di tutti gli esseri viventi sono guariti Aumenta l'umiltà Diminuiscono il materialismo e il consumismo Si incrementa la generosità I problemi astrologici collegati al toro, leone, venere e sole sono risolti Sperimento la saggezza dell'equanimità e il potere dell'incremento Ciò che sembra impossibile diventa possibile Sorge il mandala della terra vagera Prima luce Risveglio il mandala quadrato della terra di colore giallo Al mio chakra segreto rienergizzando il vento discendente La immaginima La immaginima La immaginima La immaginima Seconda luce Purifico il vento di natura terra Con la concentrazione, il mantra e il mudra Eseguo una chirurgia psichica Estraendo l'inquinamento dell'elemento terra a livello grossolano e sottile Dal mandala della terra del mio corpo aurico L'inquinamento passa attraverso i canali sottili E lascia il mio corpo uscendo dalle dita delle mani E dissolvendosi in uno spazio assoluto Il mandala della terra è purificato, guarito e ricaricato dell'energia E ritorna al suo brillante colore giallo Terza luce Stabilizzo la pura energia dell'elemento terra E la integro nella vita quotidiana Visualizzo la grande madre terra al chakra segreto Mentre ricevo l'iniziazione della corona del supremo guaritore Ratna Sambhava Una pioggia di saggezza di migliaia di grandi madri terra Grandi e piccole sillabe lam Mandala della terra Lunci gialle e nettari Si assolbrano nel chakra segreto L'ambiente interno ed esterno si trasforma nel mandala della terra Vajra Pag.com La l'ambiente interno La l'ambiente interno L'ambiente interno Adi Garn traits di ghilbra Purificazione dell'elemento vento Lama, grande madre vento, tu che tutto conosci L'energia dell'elemento vento vasera di colore verde della Dachini dell'azione Al mio chakra dell'ombelico Penetra l'elemento vento dell'ambiente interno ed esterno Il mondo e i suoi abitanti Come risultato, l'elemento vento interno ed esterno è guarito L'inquinamento atmosferico, i tornado, gli uragani e le tempeste sono pacificati Si sviluppano industrie e mezzi di trasporto non inquinanti Gli alberi crescono ovunque, assorbendo l'eccesso di ossido di carbonio Le grandi foreste pluviali, i polmoni e il pianeta guariscono e si espandono Cosicché anche gli esseri viventi possono respirare di nuovo aria pura L'elemento vento, il chakra dell'ombelico, i polmoni, il colon, il naso, la lingua e il senso del gusto di tutti gli esseri viventi sono guariti Aumenta la capacità di gioire I problemi astrologici collegati a Scorpione, Acquario, Marte e Saturno sono risolti Sperimento la saggezza che tutto compie e il potere dell'azione illuminata Ciò che sembra impossibile diventa possibile Sorge il mandala del vento Vajra Prima luce Risveglio il mandala semicircolare del vento di colore verde al mio chakra dell'ombelico Rienergizzando il vento simile al fuoco Rienergizzando il vento Seconda luce Purifico il vento di natura vento Con la concentrazione, il mantra e il mudra Esego una chirurgia psichica Estraendo l'inquinamento dall'elemento vento A livello grossolano e sottile Dal mandala del vento e del mio corpo aurico L'inquinamento passa attraverso i canali sottili E lascia il mio corpo uscendo dalle dita delle mani Dissolvendosi nello spazio assoluto Il mandala del vento è purificato Guarito e ricaricato d'energia E ritorna al suo brillante colore verde E ritorna al suo brillante colore verde E ritorna al suo brillante colore verde Terza luce Stabilizzo la pura energia dell'elemento vento E la integro nella vita quotidiana Visualizzo la grande madre vento Al chakra dell'ombelico Mentre ricevo l'iniziazione della campana Del supremo guaritore Amo Gasitti Una pioggia di saggezza di migliaia di grandi madri vento Grandi e piccole sillabe Yam Mandala del vento Luci verdi e nettari Si assorbrano nel chakra dell'ombelico L'ambiente interno ed esterno si trasforma nel mandala Del vento vagera Purificazione dell'elemento acqua Lama Grande madre acqua Tu che tutto conosci L'energia dell'elemento acqua vagera Di colore bianco Della dakhin Della stabilità Al mio chakra del cuore Penetra l'elemento acqua Dell'ambiente interno ed esterno Il mondo E i suoi abitanti Come risultato L'elemento acqua interno ed esterno È guarito La radioattività E l'inquinamento domestico e industriale scompaiono Le creature marine sono salve da rischio di istinzione Le piogge eccessive E quelle acide E l'inalzamento del livello del mare Sono pacificati Di nuovo tutti gli esseri viventi Possono bere acqua pura L'elemento acqua Il chakra del cuore I reni La vescica Le orecchie Il senso dell'udito Di tutti gli esseri viventi Sono guariti Sperimento l'unione dei mondi trascendenti e mondani I problemi astrologici collegati a Ariete Vergine, Marte e Mercurio Sono risolti Sperimento la saggezza del Dharma Datu E il potere della stabilità Ciò che sembra impossibile diventa possibile Sorge il mandala dell'acqua vagera Prima luce Risveglio il mandala circolare dell'acqua di colore bianco Al mio chakra del cuore Rienergizzando il vento che sostiene la vita Seconda luce Purifico il vento di natura acqua Con la concentrazione, il mantra e il mudra Esego una chirurgia psichica estraendo l'inquinamento dell'elemento acqua a livello grossolano e sottile Dal mandala dell'acqua del mio corpo aurico L'inquinamento passa attraverso i canali sottili E lascia il mio corpo uscendo dalle dita delle mani Dissolvendosi nello spazio assoluto Il mandala dell'acqua è purificato, guarito e ricaricato d'energia E ritorna al suo brillante colore bianco Terza luce Stabilizzo la pura energia dell'elemento acqua E la integro nella vita quotidiana Visualizzo la grande madre acqua al chakra del cuore Mentre ricevo l'iniziazione del vaso del supremo guaritore Akshobia Una pioggia di saggezza di migliaia di grandi madri acqua Grandi e piccole sillabe bam Mandala dell'acqua Luci bianche E nettari si assorbono nel chakra del cuore L'ambiente interno ed esterno Si trasforma nel mandala dell'acqua vagera L'ambiente interno ed esterno L'ambiente interno ed esterno Purificazione dell'elemento fuoco Lama, grande madre fuoco Tu che tutto conosci L'energia dell'elemento fuoco vagera Di colore rosso della dacchini del potere Al mio chakra della gola Penetra l'elemento fuoco dell'ambiente interno ed esterno Il mondo e i suoi abitanti Come risultato L'elemento fuoco interno ed esterno è guarito I disordini della temperatura Il riscaldamento globale Le eruzioni vulcaniche I disturbi della ionosfera sono pacificati Tutti i fuochi distruttivi sono trasformati in fuochi di saggezza Il fuoco della collera diventa fuoco d'amore L'elemento fuoco Il chakra della gola Il fegato La cistifellea Le febbri Il naso E il senso dell'olfatto di tutti gli esseri viventi Sono guariti Si sviluppa il fuoco del tummo della saggezza beata E la capacità di prendersi cura del proprio canale centrale I problemi astrologici legati a Bilancia Pesci, Venere e Giove Sono risolti Sperimento la saggezza discriminante e il potere del controllo Ciò che sembra impossibile diventa possibile Sorge il mandala del fuoco Vajra Prima luce Risveglia il mandala triangolare del fuoco di colore rosso Al mio chakra della gola Rienergizzando il vento ascendente Rienergizzando il vento Rienergizzando il vento Rienergizzando il vento Salute Mchsie Seconda luce. Purifico il vento di natura fuoco. Con la concentrazione, il mantra e il mudra, eseguo una chirurgia psichica, estrendo l'inquinamento dell'elemento fuoco a livello grossolane e sottile dal mandala del fuoco del mio corpo aurico. L'inquinamento passa attraverso i canali sottili e lascia il mio corpo uscendo dalle dita delle mani. Dissolvendosi in uno spazio assoluto. Il mandala del fuoco è purificato, guarito e ricaricato d'energia e ritorna al suo brillante colore rosso. Il mandala del fuoco è purificato, guarito e ricaricato a livello grossolane e ricaricato a livello grossolane e ricaricato a livello grossolane e ricaricato a livello grossolane. Visualizzo la grande madre fuoco al chakra della gola, mentre ricevo l'iniziazione del doge del supremo guaritore Amitaba. Una pioggia di saggezza di migliaia di grandi madri fuoco, grandi e piccole sillabe Ram, mandala del fuoco, luci rosse e nettari, si assorbono nel chakra della gola. L'ambiente interno ed esterno si trasforma nel mandala del fuoco Vajra. La 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 Metodo breve per purificare l'ambiente esterno ed interno, il contenitore e il contenuto, trasformando il pianeta in un mondo puro. Il contenitore e il contenitore e il contenitore. Il contenitore e il contenitore e il contenitore. Metodo estremamente breve di autoguarigione dell'ambiente. HOM purifica tutti i difetti di colore, odore e potenzialità degli elementi. HA li trasforma in ettare. HOM li moltipica e li incrementa. HOM 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 Metodo per equilibrare l'energia solare e lunare nell'ambiente interno ed esterno nei sei periodi del giorno e della notte. HOM 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 dedica per trasformare questo mondo nella terra pura di Shambhala l'ambiente e il mondo diventano puri versi d'auspicio all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio musica realizzare la pace con l'ambiente realizzare la pace con l'amazzonia realizzare la pace con i cinque elementi realizzare la pace con l'elemento terra realizzare la pace con l'elemento vento realizzare la pace con l'elemento acqua realizzare la pace con l'elemento fuoco realizzare la pace con l'elemento spazio salute mentale salute fisica pace interiore pace nel mondo ora e sempre con l'attenzione di tutti gli esseri umani con le benedizioni di tutti gli esseri santi con le benedizioni di guru Buddha Shakyamuni per il potere della verità per il potere della verità possa la cultura violenta essere trasformata in una cultura non violenta cultura di pace tempo di pace giorni di pace notti di pace sonni di pace risvegli di pace settimana di pace mesi di pace anni di pace di anno in anno con pace vita di pace di vita in vita con pace generazioni di pace di generazione in generazione con pace famiglie di pace amici di pace compagnie di pace attività di pace guidare con pace mente di pace pace con ogni cosa ogni cosa con pace ogni cosa con pace per favore per il potere della verità per il potere della verità possono i pensieri violenti essere trasformati in pensieri non violenti in pensieri di pace per il potere della verità per il potere della verità per il potere della verità possano gli sguardi violenti essere trasformati in sguardi non violenti in sguardi di pace per il potere della verità possono le parole violente essere trasformate in parole non violente, in parole di pace. Per il potere della verità possono i contatti violenti essere trasformati in contatti non violenti, in contatti di pace. Per il potere della verità possano le relazioni violente essere trasformate in relazioni non violente, in relazioni di pace. Per il potere della verità, salute mentale e salute fisica, ora e sempre. Per il potere della verità, in pazza, 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 in pazza. Per il potere della verità, pace interiore e pace nel mondo, ora e sempre. Per il potere della verità, pace nell'ambiente esterno ed interno, ora e sempre. Per il potere della verità, per il potere della verità, armonia e gioia, ora e sempre. Per il potere della verità, nuova beatitudine e vacuità, nuova beatitudine e vacuità, ora e sempre. Con le benedizioni di Guru Buddha Shakyamuni. Per il potere della verità, per l'attenzione di tutti gli esseri umani, per le benedizioni di tutti gli esseri santi, possono gli effetti collaterali violenti, essere trasformati in effetti collaterali non violenti, in effetti collaterali positivi, ora e sempre. Per il potere della verità, possono i cambiamenti climatici violenti, essere trasformati in cambiamenti climatici non violenti, con armonia, ora e sempre. Per il potere della verità, per il potere della verità, essere trasformati in aspetti non violenti, in aspetti armoniosi ed auspicio, ora e sempre. Per il potere della verità, per il potere della verità, possono gli investimenti violenti, essere trasformati in investimenti non violenti, in investimenti di pace, ora e sempre. Con le benedizioni dello scienziato nel mondo interiore, guru Buddha Shakyamuni. Per il potere della verità, per il potere della verità, possano gli investimenti non violenti, essere trasformati in sport non violenti, in sport di pace, ora e sempre. Con le benedizioni dello scienziato nel mondo interiore, guru Buddha Shakyamuni. Per il potere della verità, per il potere della verità, possa la medicina violenta, essere trasformata in medicina non violenta, in medicina di pace, ora e sempre. Con le benedizioni dello scienziato nel mondo interiore, guru Buddha Shakyamuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.